... Popolari Glocalizzati Notizie Direttore Maurizio Compagnone Buonasera dalla redazione, quinto appuntamento con l'informazione di oggi, venerdì 24 ottobre. In apertura, micidiale attentato contro l'esercito egiziano nel Sinai. Dieci militari sono morti, feriti gravemente altri 27. L'attacco è stato condotto da membri dell'ISIS con un'autocarica di esplosivo che è detonata al passaggio di un convoglio militare. L'esplosione ha investito un solo autoblindo che ha preso fuoco. Il convoglio marciava al confine con la striscia di Gaza nel villaggio di Al-Karuba. Segnalazioni ci giungono anche di un attacco in una base militare sempre nella regione del Sinai. Intanto, secondo fonti locali, i miliziani dell'ISIS sono entrati in possesso di bombole di gas riempite di cloro. Si tratta di un nuovo tipo di arma già usata dai jihadisti contro i militari iracheni. Almeno 40 soldati hanno riscontrato segni di avvelenamento da cloro. Alle sedi diplomatiche della coalizione anti-ISIS sul territorio iracheno è invece scattato l'allarme buste sospette. L'avviso è di non aprire corrispondenza non chiara. Agenti della sicurezza sono al lavoro per neutralizzare la milaccia. Anche se uno dei pacchi sospetti ricercati è arrivato al consolato canadese di Istanbul. La busta conteneva polvere gialla. Ora, sotto analisi, sembra che uno dei dipendenti dell'ufficio protocollo sia entrato in contatto con questa sostanza. Ma cambiamo argomento la crisi energetica tra Russia ed Unione Europea sullo sfondo delle tensioni in Ucraina. La Russia avrebbe deciso di ridurre il gas destinato a Bruxelles. La cancelliera tedesca Angela Merkel avrebbe telefonato a Putin appena appresa l'informazione esortandolo a risolvere al più presto le controversie con Kiev, visto l'approssimarsi dell'inverno. La prossima settimana è in programma un nuovo incontro. Nel caso in cui l'Ucraina non decida di pagare i miliardi di debiti accumulati con Mosca, quest'ultima potrebbe chiudere ulteriormente i rubinetti. Si prospetta anche un nuovo incontro tra Russia, Ucraina, i separatisti e l'OSCE per discutere del dopoelezioni e della difficile crisi economica di Kiev. Intanto Putin, da soci dove si trova in occasione di un forum politico, ha accusato gli Stati Uniti di minare la stabilità globale. Gli Stati Uniti stanno destabilizzando l'ordine del mondo globale, imponendo la loro volontà. Se Washington non rispetta gli interessi dei singoli paesi, il mondo dovrà affrontare una nuova guerra. Parole pesanti, quelle del premier russo. Guerre come quelle in Iraq, Libia e Siria sono frutto della politica pasticciata di Washington, che non hanno portato a nulla se non al caos. Ha poi continuato. Combattono contro i risultati creati dalla loro politica. Ora corrono ai ripari con sacrifici umani per eliminare i rischi che essi stessi hanno creato e di cui stanno pagando un prezzo sempre maggiore, ha detto Putin, tralasciando una costruzione diplomatica del messaggio. Questa era l'ultima notizia per il momento. È tutto, appuntamento alle 19.30 circa. Buona serata. 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 Grazie a tutti